Incentivi all'esodo più alti e garanzie sul ricollocamento di una parte delle maestranze nella nuova sede di Mantua sono le richieste avanzate venerdì mattina in prefettura dai sindacati CUB e SICOBAS in merito alla vicenda della chiusura del magazzino logistico di Broni gestito dalla Moving SRLS che movimenta la merce per conto del gruppo Gottardo per il marchio Tigotà. Secondo quanto riferito l'azienda avrebbe proposto tre fasce di incentivi all'esodo per gli operai fra i 10 e i 25 mila euro a seconda dell'anzianità dei lavoratori stessi senza tuttavia garantire il ricollocamento per coloro intenzionati ad accettare il trasferimento nella nuova sede. I sindacati hanno ribattuto chiedendo incentivi più alti fra i 22 e i 27 mila euro oltre che la garanzia di ricollocamento per almeno una parte delle maestranze. È l'ultimo atto della vicenda che riguarda in tutto circa 200 addetti della logistica di Broni e che accanto a momenti di contrattazione sindacale ha visto nelle scorse settimane anche cortei di protesta come quelli di Pavia e Milano, quest'ultimo in occasione dello sciopero nazionale indetto dai due sindacati autonomi per rivendicare più diritti nel nuovo contratto collettivo nazionale di categoria fra cui aumento dello stipendio, riconoscimento del lavoro notturno, abolizione della figura del socio lavoratore di cooperativa e contrasto alla precarietà.